Il ruolo del regista, da sempre, è stato riservato a chi è dotato di piedi buoni e visione di gioco. Andrea Pirlo è l'interprete numero uno in Italia. A lui, Bresciano Doc, si ispira un altro Bresciano, Daniele Baselli, talento purissimo del calcio italiano. Classe 1992, la carta d'identità, recita dunque 22 anni, a dargli i Natali e Manerbio, piccolo comune Lombardo, a consacrarlo calcisticamente e invece Bergamo. Dalle giovanili alla prima squadra, rigorosamente nell'Atalanta, fatta eccezione per la parentesi nel Cittadella. La carriera di Baselli non conosce pause, dall'esordio delle 2011 in Serie B a quello delle 2013 nella massima serie. Nel mezzo, anno 2012, l'atteso debutto in Under 21, sotto la guida tecnica di Davis Mangia, che lo utilizza in occasione della prestigiosa amichevole contro la Spagna. Dieci presenze e due assist, numeri di tutto rispetto, che ne fanno un leader della selezione azzurra, anche durante la gestione di viaggio. Determinante il suo contributo nelle qualificazioni ai campionati europei del 2015, prestazioni convincenti e una presenza costante in mezzo al campo. Qualità al servizio dei compagni, per chi nasce come centrocampista centrale. Piedi raffinati e spiccata visione di gioco. Doti innate, che gli consentono di fare la differenza in fase di costruzione, dettando i tempi di gioco della squadra. Pirlo è il suo idolo fin da bambino, Busquets, il giocatore al quale Baselli si avvicina di più per caratteristiche. Nomi illustri del centrocampo mondiale, massimi interpreti di un ruolo nevralgico, in attesa della definitiva esplosione di un ragazzo dalle qualità fuori dal comune. Grazie.